Ci troviamo in una laterale di via Saperno e praticamente fortunatamente è partito un incendio fortunatamente domato subito dai bocchieri, è andato proprio a un balcone qui, un centro è molto preso, tutte le forze di polizia presenti, molta paura, molto panico ma tutto si è dato a breve tempo, perfetto l'intervento dei bocchieri, queste sono le dichiarazioni del vice sindaco che ha ringraziato la professionalità degli uomini sono un giornalista giornalista io non voglio essere ripreso, è chiaro? la diffido da riprendermi e da... la diffido davanti ai testimoni a riprendere, è chiaro? ok è chiaro? siamo fuori in un... è quello che il signore qua non vuole ok è chiaro? la diffido ufficialmente io pubblico quello che sta dicendo lui che si chiama articolo 21 libertà di stampa poi passo in... posso... poi diamo un passo a fare l'esporto articolo 21 aspetti dai, per cortesia facciamo lavorare il signore la Praida sì ha ragione Ma dai, noi giochiamo, loro lavorano, noi, loro, qui, qui, allora, qui ci siamo ancora con sempre la solita storia, eh? Perfetto, vieni qua, Biennati Francesco Maria, Biennati Francesco Maria, mi chiamo Biennati, io mi chiamo Biennati Francesco Maria, questo non è, usciamo. Vabbè, ce l'ho, oh, ce l'ho l'articolo, eh. Chiudiamo in questo modo il video perché ci è stato impedito in maniera anche molto brusca che non vogliamo commentare di filmare, vabbè, capita. Noi giornalisti siamo sempre, eh, dei piccanaso, rompicoglioni, la vita capita così. Ciao a tutti, grazie, l'incendio è stato domato, è tutto bene.